Siamo qui in Piazza Montale, a Torino. È stata fatta una raccolta firme per il problema degli aumenti delle bollette del terri riscaldamento. Noi abbiamo interpellato alcune persone, dalle cifre che ci hanno detto, gli aumenti sono del 300%, in base alle cifre che ci hanno fornito le persone comuni che erano qui in piazza, ovvero le bollette del terri riscaldamento sono triplicate. Ci sono state diverse situazioni, ci sono stati dei bonus, ma in realtà la situazione adesso qual è? Allora, come comitato della città metropolitana di Torino dei teleriscaldati abbiamo lanciato nell'ultima settimana l'autosospensione dei pagamenti delle bollette. Perché è chiaro che se da febbraio stiamo continuando a lottare perché avvenga una calmerazione delle tariffe, al momento questa non è ancora avvenuta. Abbiamo avuto incontri con il sindaco, con gli assessori e quello che hanno dimostrato è che non hanno alcuna intenzione, alcuna volontà politica di intervenire in materia. Quindi ci siamo organizzati come comitato, inconvolgendo di nuovo tutta la rete di inquilini, di cittadini che siamo già riusciti a intercettare e allargarci. Proprio per dire ancora una volta che noi questi aumenti non li vogliamo pagare. Oggi siamo scesi qua di nuovo in piazza Montale con un'assemblea, raccogliendo ancora le firme dell'autosospensione e sono tante e tante le famiglie che o non riescono più a arrivare alla fine del mese pagando anche bollette di 200-250 euro al mese per 12 mesi. Quindi anche in un periodo estivo in cui il riscaldamento non è in funzione. Ci sono anche tante persone che hanno la fortuna di avere un reddito che possa permettergli anche di vivere in maniera decente e che però non sono più disposti a farselo fregare, visto che in questo paese i salari sono sempre più bassi, le pensioni sono sempre più basse e però quando ci sono dei soldi da poter distribuire come gli extra profitti di IREN, in questo caso i 119 milioni o i 7 miliardi di ENI bene, questi profitti non vengono distribuiti verso gli inquilini, verso chi sta vendendo scaricato il costo di questa finta transizione ecologica ma vengono distribuiti tra i dirigenti di IREN e tra i vari sindaci dei vari comuni che sono gli unici che sono aumentati lo stipendio. Allora, è molto che state lavorando su questa situazione, ma in realtà chi sono gli attori implicati? Gli attori sono i cittadini teleriscaldati, siamo tutti attori e protagonisti di questa protesta perché abbiamo le nostre bollette che ci mandano a casa da pagare, che continuano ad aumentare e sono aumentate anche adesso ad agosto. Ad agosto aumenta il teleriscaldamento, è quasi ridicolo, quasi scoppia di caldo e questa acqua calda che gira tutto l'anno, 365 giorni all'anno, a 120 gradi, anche senza doverci che c'è il teleriscaldamento ce l'aumentano perché è legata al costo del gas naturale, il costo del gas naturale è legato all'energia quindi bisogna staccare questa cosa. Il costo del gas deve costare per il gas che si consuma, non che come il petrolio e il dollaro cioè è assurdo. Se uno usa 99% di cascame termico, che è un'energia irrecuperabile, e usa l'1% di gas non può caricare questo 99% di cascame termico con il prezzo del gas naturale solo perché la legge glielo permette. È una legge ingiusta e iniqua contro le rinnovabili. Questa è una legge che da cambiare. Arrera, devi cambiare questa cosa perché se no non sei un'autorità. Ricordiamo che Arrera è un consorzio, un ente, che decide a livello nazionale le tariffe del mercato a maggior tutela. Lancerete una mobilitazione per presumibilmente il 30 settembre. Cosa chiederete? Il 30 settembre, proprio in coincidenza con il termine ultimo che Arrera si è dato per valutare o meno di istituzione di un'attività specifica per il telescaldamento, noi scenderemo in piazza per avere proprio un peso politico all'interno di questa decisione. L'appuntamento sarà esteso a tutta Italia, a tutte le città che ovviamente vorranno aderire a questa mobilitazione e chiederemo le 5 rivendicazioni che da mesi stiamo continuando a portare avanti. Cioè, prima di tutto, una calmerazione delle bollette, una calmerazione che deve essere fatta attraverso la tassazione degli extraprofitti e quindi una regolamentazione della tariffa di Arrera che ovviamente, nella quale, non può andare ad incidere anche tutta la questione della dispersione termica che c'è all'interno delle tubature. Non è un problema dell'utente finale, ma è un problema direttamente del distributore o di chi la produce. E questo è il primo punto. Chiediamo anche la ripubblicizzazione dei servizi energetici, visto che gli aumenti spropositati sono sì avvenuti all'interno di quella che è una cornice di guerra e quindi una conseguenza anche dell'economia di guerra che stanno propinando, ma gli aumenti irreali del teleriscaldamento sono iniziati a venire dal 2007. È chiaro quindi che se si continua a tenere un modello di quei servizi energetici fondato sulla privatizzazione di questi servizi, ci sarà sempre delle aziende private che speculano sui diritti sociali come stanno facendo le grandi multiutility e di conseguenza l'utente finale è quello che verrà a suo discapito. Chiediamo anche che ci sia un'istituzione di un bonus reale e concreto che vada a superire anche a quello che è stato questi due anni in cui a livello nazionale non è mai stato dato alcun bonus per il teleriscaldamento. Dunque poter avere la possibilità anche degli inquilini di riuscire a rientrare anche dei costi già sostenuti perché appunto i redditi in questo paese sono redditi molto bassi. Chiediamo anche che ci sia una moratoria sui debiti pregressi relativi a tutte le bollette, non solo a quelle del teleriscaldamento. Questo perché vogliamo assolutamente tutelare ogni singolo inquilino proprietario che stia scendendo con noi in piazza, si stia mobilitando anche tramite l'autosospensione, ma vogliamo anche dire un messaggio forte e chiaro a tutti gli inquilini di questo paese, teleriscaldati o meno. C'è un problema che è legato all'aumento del costo delle bollette, di conseguenza non è solo una lotta tra i teleriscaldati, è una lotta contro il caro bollette. Anche chi è che non ha potuto pagare in questi mesi la luce e il gas che sono sempre aumentati anche con altre compagnie, ha lo stesso diritto di vedersi una moratoria per i debiti pregressi. Grazie, allora ci vediamo il 30. Ci vediamo il 30 nella piazza di Torino che sceglieremo. Grazie.